buongiorno ragazzi in questo video vi parlerò del balletto vi chiedo di preparare una mappa concettuale inserendo le seguenti voci il titolo sarà il balletto e invece per quanto riguarda le voci una prima voce definizione del balletto seconda voce riguarderà la storia del balletto questa seconda voce poi potete anche suddividerla in tante ulteriori voci e proprio perché nella storia del balletto vi dirò qualcosa e parlerò un po della sua evoluzione nel corso dei secoli quindi una prima sottovoce della della seconda voce che sarebbe la storia del balletto potrebbe essere il balletto potrebbe essere nelle antiche civiltà poi un'altra voce nel medioevo nel rinascimento una terza voce invece nel seicento e nel settecento quarta voce nell'ottocento e nel novecento allora vediamo un pochino di definire che cos'è il balletto il balletto è una forma di spettacolo una forma di spettacolo che si basa sulla danza sulla quindi sicuramente troviamo la musica caratterizzata anche da scene e da costumi che vengono indossati dai ballerini che impersonano che rappresentano i vari personaggi della della storia quindi in questo caso mentre con nell'opera lirica la storia veniva rappresentata attraverso il canto e qui invece la storia viene raccontata non attraverso le parole ma attraverso i passi di danza attraverso le figurazioni che vengono eseguite da questi ballerini e quindi una figura molto importante per quanto riguarda il balletto è rappresentata dal coreografo cosa significa cosa fa il coreografo il coreografo il coreografo è quel personaggio che deve responsabile della creazione dei passi dei passi di danza che poi i ballerini dovranno imparare collegandoli tra loro e la il collegamento di questi passi darà origine alla coreografia alla coreografia che poi noi come spettatori andremo a vedere a teatro e che ci permetterà appunto di seguire la storia che viene rappresentata appunto attraverso l'arte della danza e quindi abbiamo visto che con cecoschi e che appunto sono importanti sono importanti soprattutto due figure e cioè il compositore come cecoschi che è colui che compone le musiche le musiche per le musiche di scena no e poi è importante il coreografo il coreografo è come è appunto colui che fissa e stabilisce i passi le figurazioni i gesti che i ballerini devono compiere durante lo spettacoli i movimenti dei piedi gli spostamenti nello spazio della del palcoscenico e naturalmente appunto i passi che i ballerini compiono sono ormai allora per quanto riguarda il balletto classico sono dei passi ben stilizzati precisi che i ballerini imparano anche dopo dopo tanto tempo non non sono passi molti sono anche di questi passi sono davvero tanto complicati quindi richiedono un grande esercizio da parte dei ballerini sapete che la danza classica è un'arte molto complessa bisogna anche studiare bisogna studiare tantissimi anni prima di diventare dei ballerini prima di riuscire ad ad compiere i vari passi alcuni anche richiedono una grande abilità perché prevedono salti pirouette comunque quindi questo per quanto riguarda la definizione in generale di questa forma di spettacolo adesso passo un pochino a raccontarvi la storia la storia del balletto che si ricollega poi alla al concetto di danza quindi la danza in generale è sempre esistita fin dalle origini dalle antichità nelle antiche civiltà e ancora prima attraverso attraverso la danza l'uomo originariamente cerca anche di pregare e di ottenere dalle dalle divinità abbondanti raccolti ricchi bottini di caccia poi nel corso del tempo chiaramente i movimenti di queste danze di queste prime danze preistoriche anche sono movimenti molto semplici però appunto la danza voglio soprattutto sottolineare il valore anche culturale della danza presso le civiltà antiche e poi a partire appunto dal medioevo vengono anche create delle danze delle danze appunto come come modo per esprimere la propria la propria gioia i propri propri sentimenti no e si diffondono soprattutto a partire dal medioevo le danze alte le danze basse che cosa sono queste danze le danze alte sono delle danze che si diffondono soprattutto tra i contadini soprattutto tra i contadini si chiamano danze alte perché sono caratterizzate da salti da passi ampi che vogliono in qualche modo imitare quelli che sono i movimenti che i contadini compiono mentre lavorano la terra alle danze alte si contrappongono invece le danze basse che sono quelle che cominciano a diffondersi appunto sempre nell'arco del medioevo però negli ambienti nobili dove si cimentano questi questi appunto aristocratici e si tratta come lo dice il termine stesso di danze invece fatte da da piccoli passi caratterizzati appunto da minimi movimenti dei piedi che quasi non che restano quasi incollati al pavimento e le danze appunto dall'inizio vengono appunto sempre nell'ambito del nel corso del medioevo e anche del rinascimento vengono viste male soprattutto dalla chiesa perché attraverso la danza vengono valorizzati i movimenti del corpo e quindi la la bellezza e quindi la chiesa associa soprattutto in questi periodi qualcosa di peccaminoso alle varie forme di danza pian pianino le danze cominciano a diffondersi anche all'interno delle feste dei primi spettacoli e quindi diventano degli intermezzi in queste occasioni all'interno delle feste cominciano a ballare gli aristocratici nobili e a rispettare delle delle prime forme di coreografie che vengono creati dai cosiddetti maestri di ballo questa figura diventa molto importante nel corso del del rinascimento pensate che tutte le corti richiedono un maestro di ballo e che permette poi di annotare raccogliere le varie le prime forme di coreografie e di anche scrivere i primi trattati di danza quindi questo per quanto riguarda il periodo del medioevo del rinascimento quindi abbiamo visto che nelle antichità la danza viene usata anche come una forma di comunicazione con le divinità l'uomo prega anche attraverso le danze per ottenere abbondanti raccolti ricchi bottini poi nel corso del tempo nel medioevo nel rinascimento cominciano a nascere le prime danze che si differenziano a secondo dei ceti sociali e arriviamo quindi nel 1600 quando finalmente il balletto comincia ad acquisire una forma una forma più precisa grazie appunto alla grazie appunto alla nascita delle scuole di danza prima in italia che poi e poi anche in francia infatti alla fine proprio del 1500 caterina dei medici che viene incoronata regina di francia si appassiona di questo di questa forma di spettacolo e decide di chiamare presso la sua corte tanti grandi professionisti della danza che provengono proprio dall'italia quindi ballerini coreografi e il primo balletto viene rappresentato appunto presso la corte di francia il balletto comico della regina si intitola così questo spettacolo che dura ben cinque ore e dopo caterina dei medici in francia un altro personaggio importante che sostiene notevolmente quest'arte rappresentato nella 1600 dalla dalla re luigi quattordicesimo il re sole e che invita presso la sua corte un maestro di ballo e ballerino importante lulli e che appunto perfezionerà l'arte della della danza e alla fine della 1600 nascerà anche la prima accademia reale di danza in francia grazie appunto al sostegno di luigi quattordicesimo al fine di formare questi questi ballerini che poi dovevano dovevano esibirsi proprio negli spettacoli dedicati e indirizzati alla corte del del re sole e quindi in questa in questa accademia si comincia un po ad definire vengono a definire le le principali figurazioni della danza e si afferma anche un concetto un concetto importante la danza deve deve trasmettere soprattutto deve essere un'arte un'arte che che comunichi un senso di leggerezza un senso di estraneità dalla dalla dimensione dalla dimensione reale e quindi si comincia a sviluppare uno studio anche del movimento fluttuante il ballerino deve cercare di muoversi come se fosse staccato dal dal terreno e questo questo tipo di studio questi tipi di studi portano poi alla alla formalizzazione come come ho detto delle cinque posizioni fondamentali a partire dalla 1700 vengono definiti meglio i passi e però sicuramente lo sviluppo più importante si avrà nel 1800 con il balletto romantico è importante soprattutto un balletto un balletto appunto dal titolo appunto la silfide dal titolo appunto la silfide di salvatore viganò e filippo taglioni che viene rappresentato all'inizio del 1800 presso l'opera di parigi e che riscuota un grande successo e in questo balletto la protagonista è la figlia della del coreografo taglioni maria taglioni e che appunto diventa il e lancia un tipo di balletto che poi con delle regole precise che poi verranno seguite e rispettate anche dalle altri ballerini e quali sono queste queste regole? Allora innanzitutto il ballo sulle punte che permetterà appunto di comunicare questa sensazione di leggerezza questa grazia che deve avere il ballerino e si svilupperà ancora di più il movimento fluttuante attraverso particolari movimenti delle braccia delle gambe che verranno poi ulteriormente definiti e stilizzati altra cosa che introdurrà questa ballerina è rappresentata dal tutu un nuovo costume di scena già a partire dal 1700 i ballerini si erano liberati dai lunghi costumi che indossavano in precedenza e con Maria con questa appunto con questa ballerina Maria Taglioni appunto viene appunto definita con definita la regola che durante il balletto bisogna indossare questi tutu fatti di tulle bianche e che rendono appunto rendevano possibile più facile rendevano appunto possibile il movimento naturalmente in questo modo i ballerini erano meno impacciati nella 1850 poi abbiamo anche un pochino visto con Tchaikovsky che il balletto trova grande sviluppo soprattutto in Russia quindi prima la patria del balletto era stata la Francia poi dopo il 1850 diventa la Russia in particolare San Pietroburgo con i balletti russi quindi Tchaikovsky e Mario Spetipa come ben sappiamo collaboreranno per la creazione di balletti meravigliosi tra questi il trittico formato da Il Lago dei Cigni e poi anche La Bella Addormentata e lo Schiaccianoci anche nel 1900 continuerà la diffusione di quest'arte grazie alla scuola dei balletti russi con un impresario Jagilev che collaborerà con un altro compositore dal nome Igor Stravinsky quindi questo un pochino per quanto riguarda la storia per grandi linee del balletto adesso vi saluto ragazzi e ci vediamo nei prossimi video io vi allegherò anche degli ascolti vi raccomando di cercare di integrare con le informazioni presenti sul libro arrivederci e tanti auguri buona Pasqua